Attenza regolare per questa prima batteria senior femminile e andiamo ultimi 30 metri per chiudere questa prima batteria con l'attleta 777 Lorini Alessia che chiude con il tempo di 38 e ok partenza regolare per questa seconda batteria senior femminile Madonna sangue Ricordo anche per questa categoria senior femminile saranno i primi 16 tempi a qualificare e andiamo a chiudere questa seconda batteria con l'atleta del Bellusco Saranni Sofia che chiude con il tempo di 37 e 31 Attenza regolare per questa terza batteria e andiamo verso la conclusione di questa terza batteria con l'atlete che tra un po' si presenteranno sul rettilineo finale per chiudere questa loro prima gara di qualifica chiude col tempo l'atleta 90 con il tempo di 37 e 78 ciao 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 e con questa partenza quarta batteria che per ora non ha dato nessun problema e andiamo a chiudere vicino la chiusura di questa quarta batteria la chiusura di questa terza batteria con l'atlete vicine non troppo lontane per lo meno chiude non ve lo dico sono vicinissimi col tempo di 38 e 74 la chiusura di questa terza batteria con l'atlete va bene partenza regolare e andiamo verso la conclusione verso il rettilineo per concludere quest'ultima battaglia dei senior femmine escono adesso dalla curva l'atleta 7-5-7 Gattimilissa con il tempo di 36 e 30